Non è facile trovare spazi, si trovano alla palla del vantaggio, portiere che si allunga e sventa la minaccia. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Bojan, una grandissima parata questa. Bojan, grande intervento nel portiere. La mette in area, Jowetic, è arrivato il gol del vantaggio. Suma dunque l'azione all'attacco. Potrebbe essere, e con questa rete si riportano in parità. Parte il cross, colpisce di testa, grande parata questa. Passaggio perfetto, a metri a disposizione, Jowetic. Giuralza, Mario Cal Negri all'istia.